era una conquista sì ma anche un punto di partenza per un nuovo e grande lavoro perché a questo punto bisognava poi realizzare un'alternativa perché altrimenti il problema sarebbe rimasto e quindi da quel momento in avanti mi sono un po' rimboccata le maniche come spero che lo facciano tanti altri cittadini oltre diciamo all'associazione che continua in perterita con la sua azione informativa per informare soprattutto i cittadini su una corretta modalità di gestione dei rifiuti intanto che l'amministrazione regionale prenda le sue decisioni. Allora io ho quello che volevo chiedere perché appunto da un po' di tempo faccio anche degli incontri con la popolazione, insomma le scuole, adesso gli scout eccetera, chi ci chiama insomma perché comunque questa cosa si sta diffondendo di voler capire come fare la raccolta differenziata perché non c'è abbastanza informazione. E molto spesso quello che, cioè mi sono resa conto che le persone hanno difficoltà nella gestione della raccolta della plastica perché è difficile far capire il messaggio che devono essere differenziati, almeno qui in Valle d'Aosta adesso vi chiederò come funziona da voi, solo gli imballaggi di plastica per cui è difficile questo concetto ed è difficile diciamo buttare nell'indifferenziato qualcosa di plastica che viene buttato in maniera appunto non giusta nella plastica. Quindi vi volevo chiedere in merito a questa cosa, come gestite nel vostro territorio, come avete spiegato ai vostri concittadini insomma la giusta modalità perché logicamente poi sappiamo che il CONA, il CONREPLA in particolare, paga sulla base anche di una qualità di raccolta di plastica per cui più è inficiata da cose che poi non raccoglie e più il prezzo si abbassa fino addirittura a buttare poi tutto in discarica perché non viene comprato dalla Corepla. L'altra cosa che volevo chiedervi invece era sull'applicazione della tariffa puntuale che è punto fondamentale di tutto, cioè proprio dal punto di vista pratico come l'avete realizzata nelle vostre realtà, cioè sappiamo che ci sono diversi metodi quindi dal microchip al vuoto per pieno eccetera eccetera, sulla base della vostra esperienza qual è diciamo la cosa più semplice e forse che avete trovato che sia più efficace e più semplice per il cittadino. Grazie. So che è complicato spiegare al cittadino perché la penna BIC va nel secco non riciclabile e il resto solo gli imballaggi vanno. Bisognebbe partire da tutta la storia come funziona, allora tutti gli imballaggi quando vengono immessi nel mercato come dicevano prima pagano un contributo che si chiama CAC, viene riscosso dai consorzi di filiera che poi li ridistribuiscono in base agli imballaggi che gli restituiamo. Quindi il produttore di materiale in plastica non paga un CAC, cioè non paga un contributo, lo paga solo chi produce imballaggi e quindi il Corepla dal suo punto di vista dice ti pago solo gli imballaggi che mi dai e quindi ci sono tutte formule. Adesso stiamo rinegoziando, dico stiamo perché faccio parte della commissione dell'Anci che si occupa di queste cose, ma è complicatissimo, credo non ci arriveremo a dire che quelle che in gergo tecnico si chiamano frazioni similari possono essere in qualche modo valorizzate. Vi dico cosa stiamo facendo noi, siccome poi sulla plastica, anche qui andiamo molto sul tecnico, non tutta la plastica oggi si riesce a riciclare, una frazione, una certa quantità va comunque termovalorizzata. Va oggi, prima l'assessore di Reggio Emilia diceva che abbiamo in Veneto, a Rovigo, un'azienda che invece riesce a valorizzare tutte le, anche le plastiche che difficilmente oggi potrebbero essere riciclate. Produce dell'altro materiale e quindi, però questo settore si sta ancora sviluppando. Adesso in sede di accordo stiamo dicendo che bisogna la termovalorizzazione anche delle plastiche, deve essere proprio l'ultima strada e quindi di creare delle politiche per cui si riesca a recuperare come materiale tutto questo. Nel frattempo come ci stiamo organizzando noi, noi abbiamo messo dei cassoni agli ecocentri dove tutto quello che non è in imballaggio può essere portato, proprio perché abbiamo tramite Ideal Service, si può anche tranquillamente fare il nome, noi abbiamo Ideal Service che è questa azienda che ha a Rovigo questo impianto, che è un'azienda friulana ma ha dei ramazioni in tutta Italia e ma dirò di più, come vi dicevo prima, ci sono anche altre aziende, per esempio in Toscana c'è la Revet che con questo Plasmix riesce addirittura a fare componentistica per la Piaggio, quindi chi ha la Vespa ha dei componenti che era di questa plastica sporca, ma abbiamo anche altri che stanno andando oltre, addirittura col CDR riescono a creare una plastica, però sono tutti meccanismi industriali che si creano nel momento in cui c'è il materiale e in cui si riesce a fare una raccolta di qualità e in cui si riescono a canalizzare flussi di materiale buono finalizzato al recupero. Per il resto noi cosa abbiamo? Diamo ai cittadini un ecocalendario con i giornati di raccolta e rispieghiamo ogni volta cosa va e cosa non ci va nei bidoni diversi, quindi la comunicazione è solo imballaggi, è corretta se vogliamo massimizzare poi oggi il quantitativo di soldi che poi entrano nelle casse o del comune o del gestore per riuscire a far quadrare i conti. Tariffa puntuale, io credo i nostri metodi sono simili perché sono stati sviluppati anche un po' assieme, noi abbiamo il microchip sul bidone da 120 o il bidone da 40 litri o da 30 adesso per quelli di Treviso, quindi ogni volta che viene esposto per noi è esposto pieno e vi assicuro che dopo la prima volta sono tutti esposti pieni e anche molto pressati, quindi abbiamo un peso specifico molto elevato di rifiuto secco non riciclabile quando viene messo nei vari bidoni, viene conteggiato e quindi sappiamo che uno ha scaricato 120 o 40 o 30 litri e in base a quello inversamente calcoliamo il peso facendo la divisione fra il peso totale di secco che semestralmente viene messo e il volume impiegato e da questo poi gli applichiamo in tariffa un prezzo che cambia di sei mesi in sei mesi a seconda di questo tipo di rapporto. Tutto fatto con un sistema informativo che anche noi senza fare pubblicità l'abbiamo fatto con una ditta trentina ed è tecnologia anche questa e lavoro perché un altro aspetto che forse oggi non abbiamo evidenziato ma è importante, noi abbiamo trasferito dal soldi, dal bruciare quindi dal buttare tutto in lavoro umano sia tecnologico ma anche manuale e quindi è una ridistribuzione quindi invece di pochi che si prendono tutti i soldi con una grossa procedura industriale noi rispalmiamo e in tutti i cittadini che pagano un po' meno di bolletta ma soprattutto in tanti più operatori soprattutto in questo momento in cui di lavoro ce n'è anche meno e dirò di più tutto il lavoro con una certa tecnologia lo facciamo internamente il lavoro quello più certo tipo di manuale tipo svuotare i cestini in operazione che facevo vedere prima di raccolta a terra dei piccoli pezzi di carta e rifiuti abbandonati ma anche la gestione degli ecocentri per esempio noi l'abbiamo subappaltata tutte le cooperative sociali del territorio quindi abbiamo inserito persone con disagio psichico che a volte ci danno qualche problema perché il cittadino va all'ecocentro e non trova del personale che magari tutte le volte è cortese o esperto in rifiutologia avanzata però abbiamo dato una risposta a tante famiglie con un lavoro le nostre cooperative sociali in questo settore hanno una percentuale superiore al 30 per cento di occupazione di persone svantaggiate e questo è un'ulteriore risorsa per il territorio io credo è un ambiente cioè è un lavoro che molto si presta agli inserimenti lavorativi se c'è del lavoro manuale da fare e quindi è una tutta un'economia che si gira intorno a questo settore grazie e c'è ancora e c'era scusa eh sì c'era prima aveva già alzato la mano e prima lo presento per i relatori è l'assessore all'ambiente del comune di aosta il signor degli odonze intanto voglio ringraziare vale virtuosa per aver proposto questo convegno ogni volta che vengono proposte queste iniziative c'è sempre da imparare sicuramente le esperienze che che abbiamo visto sono per noi degli esempi però anche qui la situazione è in evoluzione cioè almeno io cerco di dare il mio contributo come assessore all'ambiente del comune di aosta noi otto anni fa siamo partiti con il sistema del porta a porta ed siamo stati i primi in valle perché avevamo una percentuale che era ridicola del 24 per cento e siamo arrivati adesso intorno al 50 senza fare l'umido poi sull'umido arriverò dopo quindi c'è una volontà di di crescita sul discorso dell'umido ecco bisogna tenere conto che noi non l'abbiamo mai fatto perché non c'è in valle un centro di conferimento quindi però noi questo argomento abbiamo sempre l'abbiamo sempre seguito tant'è che nell'ultimo appalto che abbiamo fatto nel 2010 abbiamo proprio messo come servizio opzionale la raccolta dell'umido opzionale perché non c'è però augurandoci che prima o poi venga realizzato nel frattempo non è che siamo stati fermi in attesa che venga realizzato un impianto ci siamo attivati per verificare la possibilità di portare l'organico fuori valle stiamo parlando di distanze che per voi sono ridicole stiamo parlando di portarlo a una centinaia di chilometri da qui e non è che stiamo parlando di portarlo dall'altra parte dell'Italia questo perché ci permetterà di partire con questo servizio è chiaro che se poi un domani in valle ci sarà un impianto per la trasformazione dell'organico lo potremmo fare qui avendo sempre ben presente quelli che sono i costi perché come diceva lei prima qui stiamo parlando di una realtà di 130 mila abitanti dove i rifiuti organici intercettabili sono un certo quantitativo quindi l'amministratore deve anche porsi il problema dei costi se mi costa di meno portarlo fuori è evidente farlo qui è evidente che lo porto fuori però questa è un'analisi che noi andremo a fare è stato prima si diceva in questo anno da quando è stato vinto un referendum è stato fatto poco e niente noi abbiamo cercato di fare un atto concreto ed è stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche del consiglio comunale un ordine del giorno in cui ci impegna ad approfondire questo studio che noi abbiamo già fatto che prevede di portare fuori valle e così una volta che partiremo con l'organico è chiaro che quelle percentuali le raggiungeremo anche noi però volevo entrare più nello specifico riguardo ad una provocazione che è stata fatta dalla conduttrice quando dice il sistema di raccolta porta a porta nei centri storici noi dopo otto anni di raccolta porta a porta al comune di Aosta nel centro storico intendiamo modificarlo attraverso la realizzazione di alcune eco piazzole in cui verranno predisposti dei cassonetti appositi già predisposti per il passaggio tassa tariffa in maniera tale che saranno accessibili solo a quei residenti del centro storico in maniera tale che un domani sarà possibile quantificare quanto hanno conferito e in questo sistema noi riteniamo di riuscire a risolvere alcune problematicità che ci sono state in questi otto anni dovuti principalmente al fatto che nel centro storico di Aosta stiamo parlando dove ci sono le utenze singole delle difficoltà nel gestire questa raccolta con tutti i mastelli li abbiamo avuti soprattutto poi nel centro storico con la raccolta serale con i Deor abbiamo avuto qualche problema quindi la sfida nostra è quella di riuscire a mantenere anzi aumentare le percentuali di raccolta differenziata attraverso delle eco piazzole che sono poi più o meno qualcosa che mi pare sia stato fatto a Treviso con quei camion, quei piccoli mezzi che intendete mettere, che avete già messo in certe zone della città ecco quindi la sfida è un po' questa che noi abbiamo preso come riferimento alcune esperienze dei paesi scandinavi laddove il porta a porta in certe località sono già 10-12 anni che non lo fanno e hanno individuato delle case, le chiamano case del recupero laddove all'interno addirittura ci sono queste compostiere di prossimità quelle piccole e dove hanno raggiunto anche lì quelle percentuali 80-85% quindi la nostra sfida è un po' quella abbiamo qualche dubbio sul discorso dell'organico perché evidentemente l'organico fatto col porta a porta dà delle garanzie di qualità molto più elevate la sfida nostra è che in queste ecopiazzole con la raccolta dell'umido si raggiungano gli stessi standard qualitativi ci facciamo forte dell'esperienza maturata in questi otto anni laddove nell'ultimo anno noi abbiamo avuto tra tutti i conferimenti di raccolta differenziata presso il centro di conferimento solamente quattro non conformità nel conferimento della raccolta differenziata quindi riteniamo che col porta a porta una certa cultura, una certa mentalità ambientale si sia sviluppata e quindi la sfida nostra sarà anche laddove verrà fatta la raccolta dell'umido nelle ecopiazzole si possano raggiungere questi standard di qualità però ecco è fondamentale che poi su questo ci sia anche un continuo confronto noi avremo nelle prossime settimane un incontro con tutti i commercianti di Osta del centro storico per illustrare questi cambiamenti ci siamo confrontati sempre con voi, con l'Egambiente e abbiamo sempre cercato anche a livello politico di avere la massima condivisione tant'è che sia sul porta a porta sia su queste modifiche c'è l'unanimità dalla destra alla sinistra ai movimenti regionalisti perché riteniamo che sia fondamentale che ci sia una condivisione totale di questi cambiamenti posso solo precisare e ringrazio l'assessore Donzel per l'intervento spero che l'abbia accolta in maniera positiva nel senso che provocazione era certamente voluta ma per il fatto che la discussione è nata anche all'interno della nostra associazione quando abbiamo recepito la volontà del Comune di Osta di passare dal porta a porta individuale a questi ecocentri un pochino più strutturati quindi anche all'interno della nostra associazione abbiamo le frange che dicono no va benissimo perché ormai nel cittadino la cultura di differenziare bene c'è già e quelle che invece dicono no però è un ritorno indietro perché dove conferiscono più utenti si responsabilizza quindi anche all'interno della nostra associazione abbiamo vissuto questa discussione l'occasione di avere i relatori e di sottopogli la domanda era sicuramente per avere un parere da parte loro sì volevo spiegare come abbiamo impostato noi il progetto su Treviso la nostra idea non era di avere delle piazzole su cui si andava in maniera collettiva tant'è vero che non abbiamo delle piazzole fisse probabilmente al posto di Cassonetti avremmo potuto fare anche questo tipo abbiamo predisposto un cassone pluriscomparto ma che portiamo lì e poi alla sera portiamo via e lo lasciamo sempre a orari prestabiliti e con l'operatore che controlla perché è nostra esperienza che quando si lascia un qualsiasi tipo di contenitore per rifiuti incustodito questo diventa ricettacolo di tutto c'è da dire adesso non so poi com'è il vostro tessuto sociale la provincia di Treviso ha molte persone extracomunitarie abbiamo anche dei problemi non dico di abusivismo insomma di persone non censite e per esperienza in qualsiasi punto di raccolta diventa tanto è vero che li abbiamo fatti sparire tutti con una serie di problemi li abbiamo fatti sparire anche dal Monte Grappa dove da un punto di vista turistico abbiamo delle malghe o delle case sparse probabilmente in una situazione tipo la vostra anche lì siamo passati proprio porta a porta spinto abbiamo creato dei punti di raccolta con chiavetta ma sempre col concetto individuale perché abbiamo una nostra esperienza dopo magari siamo anche troppo individualismi ma solo la responsabilità individuale garantisce quindi con il cassonetto con la matricola perché poi il cittadino lo dice sanno poi che sono stato io sanno che sono stato io il bidone è mio mi sento doppiamente responsabile di tenerlo in maniera adeguata perché è mio e in più perché qualcuno potrebbe sapere che ho fatto male le cose quindi dopo ognuno farà l'importante è mettersi nell'ottica che la raccolta la raccolta va fatta non so in una peculiarità ma noi abbiamo proprio studiato per eliminare tutti questi punti e quindi abbiamo fatto questo due questo sistema un po' misto lo sperimenteremo su Treviso per esempio su Castelfranco che ha più o meno le dimensioni vostre questa cosa non la facciamo passiamo tutti i giorni con una frequenza elevata al mattino presto e non abbiamo neanche avuto la necessità di utilizzare i sacchi col trasponder probabilmente come sono certo insomma funzionerà il modello Treviso qualcuno chiederà anche a Castelfranco presumo i sacchetti per non avere magari sotto i portici i cassonetti i bidoncini che qualcuno se li dimentica ma la vedo come un'innovazione fattibile e anche che ci sta nella logica di avanzamento tecnologico e delle sensibilità comunque la invito a venire a vedere da noi che così ci confronteremo anche sul posto viene sempre abbiamo un sacco di visite quasi una alla settimana dei posti più disperati disparati che vengono a capire come funziona anche disperati il lapsus era ad occhio era un lapsus allora faccio solo una una piccola precisazione diamo ancora spazio alle domande però non più di una decina di minuti quindi vi chiedo magari delle domande un po' più concise perché poi dobbiamo liberare i relatori che qualcuno ha anche qualche altro impegno successivo al nostro qui in valle quindi grazie no credo che ci fosse prima buonasera sono Paolo Meneghini di Valle Virtuosa il conferimento in discarica da Osta costa 74 euro a tonnellata che è troppo poco anche perché la nostra discarica si sta esaurendo allora se una risorsa si esaurisce io devo pensare cosa farò quanto questa risorsa sarà esaurita e quindi bisogna assolutamente che il prezzo della discarica venga alzato perché economicamente è giustificato non è neanche voglio dire un espediente è proprio che una discarica 74 euro a tonnellata non può stare in piedi e questo radice lunga sulla volontà dei nostri politici sì di fatti grazie Paolo della tua considerazione la ragazza il ragazzo che forse ha già il microfono sì sì ce l'ho già io volevo solo fare una considerazione e poi una domanda ai relatori sentire da umile cittadino poi probabilmente io non capisco bene le cose però sentirmi dire che in Valle d'Aosta c'è una volontà politica di andare nella giusta direzione mi fa un po' specie ecco assessore Donzel magari è lei che cerca di andare nella giusta direzione però anche a livello regionale non credo che altri interlocutori siano del suo stesso avviso poi per carità io magari capisco poco di queste cose quindi andare magari non solo a bussare alle associazioni ma anche un po' a livello politico credo che sia interessante soprattutto da un certo punto di vista perché da cittadino mi sento a volte un po' in difficoltà a sentire queste cose se la direzione politica poi anche a livello regionale sarà poi in quella direzione mi farà piacere una domanda che mi sembra importante è quella che ho sentito io poi sono arrivato in ritardo chiedo scusa per impegni lavorativi ma quello che era il vostro suggerimento a livello europeo era quello che c'è la possibilità anche di rivolgersi all'Europa per capire se la Valle d'Aosta va nella giusta direzione oppure no nel senso che muovere a livello politico e chiedere il conto di quello che sta facendo l'amministrazione regionale è da fare a livello nostro qui territoriale o ci si può anche rivolgere all'Europa per capire se effettivamente noi possiamo arrivare a quegli standard oppure no nel senso praticamente io non vorrei arrivare a chiedere all'Europa di darci delle sanzioni però se dobbiamo arrivare a quei limiti lì vista che la volontà politica non mi sembra in quella direzione in questo periodo io chiedo se se voi richiedereste cioè se potremmo richiedere anche che queste sanzioni vengano dall'Europa non mi sembra neanche giusto nei nostri nei confronti di tutti i cittadini e quelli che hanno votato a favore del referendum però se quella è la direzione chiedo se è una strada praticabile oppure è solo una una provocazione grazie qualcuno vuole rispondere o aspettiamo anche no volevo dire non sta certo a noi andare a dire cosa perché sono cose antipatiche io ho detto solamente che è successo in sono stati condannati dalla Corte dei Conti quindi è una questione prettamente italiana dopodiché l'Europa ci sanziona continuamente su su quasi tutto quindi non è che dobbiamo muovere noi il ricordo era una provocazione nel momento in cui cioè stiamo parlando non di una cosa che è prevista e quindi io lascerei perdere e non è certo non vengo certo qui a dire mettete sotto un ricordo bisogna dire lo scopo delle associazioni è quello di pungolare la politica dire cosa c'è dire guardate che in giro c'è chi si comporta anche in altri modi sapere che in Italia ci sono non ci siamo solo noi ma non saremmo in linea con gli obiettivi europei se la maggior parte del del nord Italia non avesse dei buoni risultati quindi far presente che le cose si possono fare io vi fermo qui direi che sicuramente lo stimolo che ci è stato dato è proprio perché come associazioni e come singoli cittadini perché poi non dimentichiamoci che i nostri sindaci o i rappresentanti comunali all'interno delle comunità montane che prendono già delle decisioni sulla gestione dei rifiuti vengono fatti nuovi appalti che da noi sono gestiti a livello di subato coincidenti poi con le comunità montane e da lì a salire con i nostri rappresentanti in consiglio regionale sono stimoli che sicuramente anche come singolo cittadino possiamo fare perché poi noi il rapporto diretto ce l'abbiamo con il politico più vicino a noi quindi ovviamente se questa cosa che ha detto Franco noi portiamo l'esperienza positiva di altri comuni e portiamo ciò che succede già anche adesso in Italia a livello sanzionatorio da parte dell'Europa sono comunque informazioni che possono stimolare una presa di posizione diversa che vada nel senso che auspichiamo noi posso due piccole domande di precisazione una sugli impianti di compostaggio se esiste secondo voi una taglia minima al di sotto del quale non è conveniente costruirli e gestirli uno due più semplice ancora se io cittadino sono così bravo da tenermi tutto il mio umido a casa perché lo riciclo nel mio giardino non so quello che succede a Treviso vengo premiato ulteriormente con uno sconto ulteriore rispetto a quelli alla riduzione della tariffa puntuale che va a seconda della migliore raccolta differenziata grazie sulla taglia del compostaggio dell'impianto industriale di compostaggio è chiaro che più l'impianto è complesso più l'impianto è costoso più l'impianto è costoso più ha necessità di dimensioni e quindi naturalmente di materiale da trattare peraltro bisogna fare attenzione perché gli impianti di compostaggio non funzionano soltanto con la matrice organica hanno anche bisogno di componenti di verde strutturante importanti e nel nostro caso nell'impianto che vi ho fatto vedere prima si fa una lavorazione in testa di prelievo della componente metanigena per produrre energia ma non è neppure questo un qualcosa di essenziale o comunque necessario è comunque una fase di lavorazione che certo estrae il metano ma produce anche un forte abbattimento cioè rende molto più agevole il compostaggio a valle una volta fatta quel tipo di digestione anaerobica cioè in assenza di ossigeno detto questo bisogna capire bene quante tonnellate di organico voi disponete ma per capire questo non è sufficiente valutare il dato attuale bisogna capire qual è l'orizzonte del piano provinciale piano regionale nel vostro caso per lo smaltimento per il recupero per la raccolta differenziata dei rifiuti perché se l'obiettivo che la valdaolta si dà è arrivare all'80% di raccolta differenziata e quindi di riduzione e quindi di sviluppo di sistemi connessi a questo tipo di obiettivi è evidente che le quantità di rifiuto organico saranno di un certo tipo io facevo due conti rapportandole alla dimensione trentina in rapporto alla popolazione residente però poi qui si entra nel tema turistico che non è secondario quindi potrebbero dando per scontato cioè voglio dire delle convergenze rispetto al trentino e a me risultano insomma che si potrebbe portare a casa una quantità di circa dai 10 ai 13 mila tonnellate di frazione organica all'anno con questi risultati ovviamente proiettati su tutta la regione questa è una quantità che non è elevatissima ma è una quantità che non è pure così piccola insomma per cui un ragionamento sicuramente se queste sono le dimensioni è possibile svilupparlo dopodiché aggiungo anche che 100 km di distanza è un po' il nostro caso cioè il trentino per ragioni di impianti costruiti in passato che presentavano problematiche di inserimento nel territorio odori per essere chiari e quindi chiusure poi di questi impianti per le problematiche di localizzazione e quindi delicatezza del territorio perché è chiaro che le nostre valli non sono la pianura padana dove c'è un spazio infinito e quindi possiamo collocarli ovunque gli spazi sono limitati il territorio è o è boscato o ci sono le montagne oppure quindi si va nel fondo valle ma il fondo valle è in parte urbanizzato quindi i punti sensibili sono spesso vicini agli impianti quindi il tema della localizzazione di questi impianti in territori montani è un tema estremamente attuale e importante tuttavia quindi fatto questo passaggio quindi nella localizzazione è chiaro che bisogna investire su tecnologie che riescano a contenere questi impatti questi sono impianti che non sono impatto zero nessun impianto è impatto zero ma questi sono impianti che possono convivere con il territorio e devono essere fatti con la cura necessaria prima l'ho detto l'autonomia in questo senso dovrebbe aiutare a creare delle condizioni complessive anche di di maggior tutela di maggior rigore e anche di maggior garanzia nella realizzazione di questi impianti sono impianti comunque necessari se si vogliono sviluppare politiche di raccolta differenziata e recupero dell'organico dall'altra parte il Trentino stesso esportava nel Veneto esportava a Verona nella provincia di Verona praticamente tutto il suo organico proprio per queste difficoltà ma è assolutamente necessario esportare in Veneto queste quantità di rifiuti oppure possiamo trasformarle in valore in occupazione in nuovi investimenti sul territorio e quindi cercando di tenere qui questo tipo di opportunità bisogna valutare evidentemente quindi se l'impianto è a 100 km non siamo a distanze molto significative bisogna capire quanto costa portarlo a 100 km perché più diventa un monopoglio però insomma sono realtà che vanno valutate con questo tipo di dimensioni l'altra domanda era sulla tariffa puntuale in relazione al compostaggio la tariffa puntuale prevede uno sconto almeno dal di teme ma mi pare anche a Treviso e mi sembra anche in altre realtà che applicano una tariffa puntuale è pari al 30% di riduzione del costo dello svuotamento cioè se uno svuotamento costa 10 euro se uno fa il compostaggio domestico quello svuotamento della trazione secca costa 7 euro 6 euro e 50 quindi c'è una riduzione del 30% sul costo di ogni singolo svuotamento e questo serve per agevolare insomma il cittadino stimolare il cittadino non sono grandi cifre guardate io dico sempre il compostaggio domestico lo si fa perché c'è una consapevolezza c'è anche impegnativo insomma quindi è un percorso anche questo che va accompagnato per evitare anche problemi poi nella gestione dei compostaggi domestici però è comunque un percorso che anche con la sensibilizzazione può essere migliorato e può essere anche diffuso soprattutto in territori come i nostri abbastanza capillarmente sul territorio noi abbiamo una percentuale di compostaggi domestici che è intorno al 35% 40% quindi una buona diffusione del compostaggio domestico che diventa anche una pratica voglio dire di un modo di vivere oltre che una pratica che dà uno sconto limitato sulla terza puntuale grazie mille Andrea bene a me il compito di chiudere il no c'è ancora dicono ah ok prego posso fare un'ultima domanda da parte di un'extracomunitaria che arriva da Borgofranco quindi sono Danila Asaro faccio parte del comitato Nopiro molti di voi già sapranno perché abbiamo il sostegno di Valle Virtuosa in questa lotta contro il pirogassificatore che è stato purtroppo già costruito a Borgofranco all'indomani della vittoria della vostra vittoria in Valle d'Aosta contro la costruzione di questo pirogassificatore la stessa ditta la COGEIS ha immediatamente avviato le pratiche per costruirne uno a Borgofranco di grandi dimensioni poi non è stato accettato e hanno costruito hanno trovato le scamottage costruindone uno sperimentale comunque detto ciò che molti di voi crono storia che purtroppo molti di voi conoscono io avevo voglia di chiedere all'assessore provinciale Tutino una domanda di carattere politico un assessore ha la facoltà o gli strumenti di opporsi ad un progetto di pirogassificazione anche di questo tipo sperimentale spiego cosa intendono loro per sperimentale come dimensioni ridotte che può bruciare fino a 2000 chili all'ora di materie plastiche fanghi di depurazione e polline si è fortemente osteggiato dai sindaci e dalla popolazione locale portando a sostegno la tesi che tecnicamente non si può bloccare l'iter autorizzativo se richiesto dal produttore cioè lui praticamente dice l'assessore nostro provinciale Ronco che non può dire di no a un produttore che propone un impianto del genere per il nostro territorio noi tra l'altro abbiamo ovviamente contattato dei tecnici delegali questi tecnici hanno esaminato sia la localizzazione geologica il sito dell'impianto che presenta dei problemi per problemi di esondazione del fiume della Dora come tra l'altro è successo in passato e di instabilità e tra l'altro l'impianto è stato costruito sotto costa montana e abbiamo portato anche Paul Connet quando è venuto a Ponce-Martin a visitare l'impianto e lui è rimasto scandalizzato perché praticamente ha detto che non c'è assolutamente dispersione d'aria e quindi è un impianto molto pericoloso comunque altamente dannoso per il sito in cui è stato costruito quindi io chiedevo noi possiamo da un punto di vista politico intervenire su un assessore dicendo che lui ha la possibilità o gli strumenti per dire di no anche a un inter tecnico già avanzato e arrivato all'ultima fase di realizzazione grazie la risposta più semplice per lo meno per l'esperienza che ho è che dipende dalle normative regionali a Reggio Emilia potremmo fermarlo come provincia perché la regione Emilia Romagna ha attribuito alle province delle funzioni che per esempio ci hanno consentito sia di pianificare i servizi territoriali che di stringere la valvola diciamo l'imbuto attraverso una regolamentazione dello smaltimento che quindi ha portato la necessità di ripensare le politiche di raccolta differenziata perché abbiamo una delega regionale per fare questo dubito fortemente che per la regione se non per la provincia se in Piemonte è la regione ad avere queste funzioni sia impossibile fermare un progetto di questo tipo perché progetti che non possono essere fermati a meno che non siano di grande interesse nazionale non esistono grandi opere pubbliche comunque peraltro mi raccontava qualcosa mi raccontavano qualcosa durante il pranzo prima di venire a questo convegno mi sembra che la gran parte dell'approvvigionamento sia di materiale per cui esistono tecnologie di recupero non energetico quindi condam... ... ... né di compostaggio domestico nei rifiuti urbani da bruciare perché noi recuperiamo quasi tutto tutte le nostre famiglie hanno il compost in casa quindi noi non avremmo bisogno di impianti come quello che ovviamente o di strategie come quelle di cui avete parlato perché già siamo sulla strada infatti i nostri sindaci sono molto arrabbiati e stanno facendo una petizione anche amministrativa a petizione di firme popolari l'abbiamo già fatto ma amministrativa tra tutti i comuni del Canavese per opporsi a questa decisione quindi è chiaramente una decisione solo politica che come diceva comunque anche Ercolini va condannata in quanto tale grazie bene allora chiudo il convegno perché l'ora è veramente avanzata e volevo solo ringraziare i nostri relatori per la consueta chiarezza espositiva parliamo di temi che alle volte richiedono anche delle conoscenze un po' più specifiche ma riescono ad essere sempre semplici nel linguaggio e nelle spiegazioni e li ringrazio inoltre perché vengono sapendo che hanno a che fare con un'associazione di volontari che non gode di grande finanze vengono gentilmente con la sola copertura dei costi di trasferta quindi per questo noi gli siamo molto grati perché sicuramente non abbiamo una disponibilità finanziaria che ci permette di poter investire dove invece bisognerebbe veramente investire che è l'informazione e la conoscenza ringrazio anche il sito ostaoggi.it che ha proiettato cioè non è il termine proiettato ha trasmesso in diretta streaming il convegno per tutto il pomeriggio e che a partire dalle 19 sarà poi revisionabile per intero e anche questo è stato fatto gratuitamente proprio per venire incontro alle necessità della nostra associazione ultima cosa volevo ringraziare gli amici di Borgo Franco che sono qua e che ovviamente sanno che hanno il nostro sostegno perché il problema se si sposta di poche decine di chilometri dal confine della nostra regione è un problema anche nostro quindi sicuramente complimenti per il lavoro che stanno facendo e noi ci siamo quindi grazie a tutti e alla prossima volta grazie